Ben ritrovati su Canale 40. A Gonnesa, un padre di famiglia di 59 anni, in disoccupazione da ben tre anni, chiede aiuto all'amministrazione comunale. L'urlo disperato è l'appello dell'uomo ai nostri microfoni. In questo servizio di Manolo Muredu, vediamo. Oggi siamo a Gonnesa per parlare della storia del signor Salvatore Zara. Signor Zara, lei ha 59 anni, da circa tre anni non lavora, è padre di due figli e si trova in una condizione economica molto difficile. Molto, perché non avendo soldi per comprare il pane mi sa che è un po' pesante. Sono da una settimana io che non compro pane per i miei figli. Non sto scherzando. Ci sono bambini che molte volte mi chiedono, papà, la merenda? La merenda non ce n'è. Ha chiesto aiuto per questa situazione? Più di una volta. Però sembra che non gliene freghi niente a loro. Il comune però l'ha aiutata. Quando si ricorda o quando ne ha voglia. Perché restando due o tre mesi senza avere un aiuto, una giornata di lavoro o un'aliena in tasca, vuol dire che aiuto ce n'è pochissimo. Perché lei vorrebbe lavorare, non vorrebbe assistenza. Io, se non mi danno lavoro, devono per forza darmi un'assistenza perché i miei figli devono mangiare tutti i giorni. E se non mi danno l'assistenza, non mi danno lavoro, di che cosa accampo? L'aria? Lei è tornato dal 2003, qua in precedenza stava in continente. Sì, ho fatto undici anni a Modena. E lì, bene o male. A parte il fatto che... Si è pentito di questa scelta di essere tornato? Sì, mi sono pentito, più di una volta. Cosa si sente di chiedere all'amministrazione comunale di Gonesa e più in generale a tutti coloro che potrebbero aiutarla? Una mano d'aiuto, solo quella. Altrimenti un posto di lavoro, anche se non è tutto il tempo che pensano. Però, che mi entri almeno qualcosa per poter vivere senza andare a chiedere niente. Abbiamo circa 300 famiglie da poter, comunque sia, contenere un disagio. Il signor Zalasalvatore, come tutti gli altri cittadini e gli altri utenti, periodicamente, in funzione sempre delle risorse, vada bene che, comunque sia, noi come gestione, mettiamo delle ingenti risorse, pur avendo un bilancio abbastanza legato, verso questo settore molto delicato. Il signor Zalasalvatore non ha avuto, come gli altri cittadini, è stato sempre sostenuto, nel limite delle possibilità, anche con degli inserimenti lavorativi. È naturale che questi inserimenti lavorativi non possono essere permanenti. Noi abbiamo un elenco numeroso, andiamo a ruotare con i vari utenti. Per quanto riguarda i contributi economici, anche lì, con tutte le difficoltà, siamo sempre presenti. È naturale che non possono risolvere le problematiche del signor Zalasalvatore, però vanno a contenere un disagio. Su questo tema noi ci siamo contraddistinti, siamo presenti e lo saremo anche domani. È naturale che non potremo risolvere le sue problematiche. Grazie. Grazie.